Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Allora innanzitutto scusate per il coso per lo scaldacollo però primo fa un freddo cane, secondo ho dei capelli di merda quindi evito insomma. Quindi oggi io e la gatta, che c'è la gatta a dormire qua, vi parleremo della partita Cagliari-Fiorentina finita con il risultato di 0 a 1. Allora è stata, vi fa il post partita proprio a caldo perché è finita veramente da poco, sono circa mezzanotte quindi comunque è finita da un'oretta e mezzo dato che comunque anche il recupero è stato sostanziale nel secondo tempo ma ne parleremo poi. Allora partita sostanzialmente diciamo dominata dalla Fiorentina perché comunque il Cagliari è una squadra che in genere come abbiamo visto nella partita il primo tempo lo fa giocare all'avversario, il secondo tempo magari mette quei giocatori come Farias, Faragò e anche Sau per esempio che sono bravi a partire in contropiede quindi a cercare di far arrivare l'attaccante in porta contando sulle sue doti di dribbling, di tiro insomma ma soprattutto di dribbling. Infatti l'abbiamo visto che negli ultimi minuti il Cagliari si è spinto molto avanti. Quindi in generale comunque una partita allora dominata dalla Fiorentina è il risultato giusto che in realtà va anche addirittura un pochino stretto alla Fiorentina perché è solo un gol con tutte le occasioni che ha creato durante la partita direi che è anche poco. Diciamo che il fattore secondo me che manca a questa Fiorentina per essere un pochino più cinica è proprio forse il... come si dice, la complicità tra i vari giocatori perché manca un pochino di... di esperienza perché qualcuno ovviamente ancora giovane deve crescere come per esempio Chiesa, come Simeone, anche lo stesso Babacar comunque, che comunque insomma devono anche benassi, devono un attimo crescere e acquisire esperienza durante la partita e comunque anche un pochino di complicità con gli altri compagni quindi comunque magari un attimo più di affiatamento con la squadra. Quindi non solo la giocata singola che sì, ci sta, ogni tanto ci sta, però soprattutto per essere una squadra bisogna giocare di squadra. Quindi magari dico per esempio Chiesa, per esempio, perché il primo mi viene in mente durante la partita che ha fatto più giocate individuali che giocate per la squadra, anche se in realtà l'assist del gol di Babacar è suo, quindi è un modo di dire, però mi è venuto in mente lui soprattutto perché durante la partita è stato molto più individuale che con la squadra, ecco diciamo. Niente, non c'è nient'altro sinceramente da dire, il risultato giusto, Fiorentina che guadagna questi tre punti a Cagliari che in questo momento il Cagliari per la sua forma fisica levata l'ultima sconfitta contro la Roma al 93esimo che se no poteva anche guadagnare un punto, diciamo che il Cagliari in un ottimo momento di forma. Sinceramente la sua posizione in classifica è dettata dal fatto che ha iniziato molto male ma poi si è anche un attimo ripreso, quindi comunque diciamo che se no si continuava con i ritmi che aveva all'inizio poteva essere ancora più basso di classifica, però comunque una squadra che si sta riprendendo e quindi la vittoria della Fiorentina in casa dei Sardi è stata veramente un ottimo risultato e questi tre punti sono pesanti per la classifica perché comunque la Fiorentina gioca, cioè si sta giocando diciamo in questo momento il sesto, settimo posto con la Sampdoria, il Milan e l'Atalanta e anche il Torino per insomma gli ultimi posti dell'Europa League. Ovviamente sotto di lei c'è Milan e Atalanta che hanno uno scontro diretto domani, quindi comunque che per voi ovviamente che vedrete il video sarà oggi. Quindi comunque diciamo che una delle due squadre andrà insieme alla Fiorentina, l'altra rimarrà indietro, quindi diciamo non tutte e due andranno avanti o magari se pareggiano insomma rimangono tutte e due dietro. Insomma diciamo che la Fiorentina di questo risultato non potrà ne ancora più vantaggio. Diciamo questo, diciamo così. E niente ragazzi, questo era il video di oggi. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!